Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Quella di oggi è una giornata particolare, la giornata del ricordo di una delle pagine più brutte della storia contemporanea. Dal 1943 al 1947 oltre 10.000 persone furono gettate vive o morte nelle foibe, le cavità carsiche e i confini orientali per volere del maresciallo Tito e dei suoi partigiani. In nome di una pulizia etnica che doveva annientare la presenza italiana in Istria e Dalmazia. Un genocidio riconosciuto ufficialmente nel 2004 con la legge numero 94 che istituì appunto la giornata del ricordo. In memoria dei martiri, delle foibe e dell'esodo delle comunità Giuliano Dalmate e Istriane. Il capo dello Stato Mattarella in visita ufficiale negli Stati Uniti si è augurato che la storia e la memoria comune possano fornire un grande aiuto per guardare al futuro e per scacciare dal destino dei nostri figli ogni pulizia etnica e ogni odio razziale. Le foibe sono state anche al centro dell'attenzione di una giornata particolare oggi all'emiciclo in Consiglio regionale. Un capitolo scuro della nostra storia anche a causa del cinismo della politica, un oblio della memoria collettiva durato troppo a lungo. Così dopo l'inno nazionale il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha esordito in un emiciclo grimito di studenti nel giorno del ricordo, solennità civile pensata per mantenere viva la memoria degli eccidi consumati ai danni della popolazione italiana della Dalmazza e della Venezia Giulia durante la seconda guerra mondiale, in particolare tra il 43 e il 45 nell'immediato dopoguerra ad opera dei partigiani di Tito, ricordati come massacro delle foibe, termine che indica i grandi inghiottoi tipici della regione carsica dell'Istria dove i corpi delle vittime furono occultati. Una tragedia come quella dell'olocausto che non va dimenticata perché nessuna giustificazione può avere la violenza e i morti innocenti non hanno né patria né colori. È importante ricordare tutte quelle tragedie che sono accadute nella nostra società durante i periodi più bui del secolo scorso questo percorso che stanno facendo i ragazzi per non dimenticare affinché ciò non accada più è un percorso di sei lezioni questa è la penultima lezione che si effettua qui in Consiglio regionale per poi iniziare il cammino verso quei luoghi delle foibe e della Shoah affinché i ragazzi possano capire, affinché si possa migliorare la nostra società. Questo viene fatto attraverso la conoscenza, la scienza con professori universitari, con storici proprio perché la conoscenza diventa punto fondamentale per migliorare il nostro essere umani. Si è aperto questa mattina, parliamo dunque cambiamo argomento, c'è la cronaca, si è aperto questa mattina davanti ai giudici del Tribunale di Teramo il maxiprocesso che vede imputati con accuse che a vario titolo vanno dall'associazione per delinquere alla truffa gravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche fino alla malversazione ai danni dello Stato 13 imprenditori tra cui l'ex vicepresidente della Pescara Calcio Antonio Oliveri nel mirino degli inquirenti anche le sette società del gruppo Oliveri con sede nel Terramano e attraverso le quali, secondo l'accusa, sarebbero stati ottenuti finanziamenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico relativi a leggi sugli investimenti nelle aree depresse da parte della Comunità Europea finanziamenti ai quali, però, secondo l'accusa, non avrebbero avuto diritto dopo l'ammissione dei mezzi di prova, il processo è stato rinviato ad aprile Il prefetto Alecci risponde al presidente nazionale Ance Claudio De Robertis che ha chiesto la white list anche alla ricostruzione privata e non solo in quella pubblica all'Aquila, vediamo White list, ovvero l'elenco di ditte certificate con il pedigree che possono avere accesso nella ricostruzione privata dell'Aquila a chiederlo ieri il presidente nazionale del Ance Claudio De Robertis in un convegno che si è tenuto nel capoluogo pensato per prevenire con ancora maggiore efficacia le infiltrazioni nei cantieri della ricostruzione da parte della criminalità organizzata un appello, quello di De Robertis, rivolto soprattutto alle prefetture e al microfono di TV6 il prefetto dell'Aquila, Francesca Lecci, non si sottrae alla sollecitazione ricordando però che anche nella ricostruzione privata, white list o meno, i controlli sono già rigorosi Abbiamo fino ad oggi svolto un'azione di controllo e di, tra virgolette, governo di tutto quello che il processo Ma c'è chi dice che non è sufficiente? Queste sono valutazioni innanzitutto di respiro nazionale perché è chiaro che noi parliamo dell'Aquila perché siamo segnati da questo grosso problema che è la ricostruzione l'Ance che ha un respiro nazionale che quindi ogni qualvolta tratta da uno i problemi non può che giustamente fare da cassa di amplificazione di una problematica che viene esaminata e sulla quale si esprimono dei giudizi a livello nazionale riproduce quelle difficoltà che sicuramente in tutte le parti del territorio nazionale si realizzano Le white list naturalmente presuppongono un'azione di controllo da parte delle forze di polizia azione gestita e disciplinata dalle prefetture e naturalmente nella ricostruzione quantitativamente tutto questo incide pesantemente Io credo, come funzionario dello Stato, che il nostro compito noi, potere esecutivo, prefetture, sia quello di applicare le leggi quindi se c'è una determinazione governativa in base alla quale attraverso lo strumento delle white list gestite e coordinate con un sistema di controlli che naturalmente non viene poi esautorato dall'utilizzo sempre più intensivo e massivo delle white list ma ne diventa elemento pregnante e più significativo io credo che il risultato finale che è quello di fare sì che soltanto chi ha titoli legittimi per farlo possa contrattare con la pubblica amministrazione divenire destinatario di fondi pubblici sia una buona soluzione Maxi operazione della Guardia di Finanza nel Vastese che ha sequestrato oltre 32.000 articoli destinati al carnevale merci prive o carenti dell'indicazione dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa UE e nazionale a tutela della salute la compagnia di Vasto ha sequestrato costumi, accessori, maschere, parrucche corriandoli prevalentemente provenienti dal mercato asiatico privi di indicazione sulla composizione dei materiali con etichette non contenenti informazioni obbligatorie e quindi sprovvisti dei certificati attestanti i test di sicurezza e del controllo sanitario due cittadini cinesi sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Chieti per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste oltre al provvedimento di confisca e distruzione dei prodotti ludici sequestrati e poi ancora nascondeva in un mobile della cucina oltre mezzo chilo di droga ma è stato scoperto dai carabinieri e arrestato in Manette a Montesimano è finito un 36enne accusato di detenzione e di stupefacenti a fine di spaccio i militari dell'arma della locale compagnia hanno trovato a bordo dell'auto del giovane poco più di due grammi di hashish scattata la perquisizione domiciliare nell'abitazione è stato trovato il resto della droga oltre 500 grammi di hashish e 4,3 grammi di marijuana insieme al materiale necessario per il confezionamento delle dosi il 36enne è finito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria e ora torniamo a parlare del mega sequestro di una discarica abusiva in località Cese San Marcello a Celano un fatto che il forum abruzzese dell'acqua considera assolutamente grave una denuncia che partì questa sin dal 2009 vediamo Di Nicola, la notizia di poche ore fa la scoperta di questa discarica a Celano però non è stata una sorpresa in assoluto No, disgraziatamente questo Abruzzo ci dà ogni giorno delle sorprese purtroppo negative qui stiamo parlando di una discarica che è grande come 50 campi di calcio vicino all'autostrada, nella zona di Celano e questa però è una discarica di cui aveva parlato Angelo Venti già nel 2009 c'era stato già un servizio TV nel 2015 noi vorremmo dire a tutti i cittadini che quando un cittadino fa un esposto o dichiara che c'è qualcosa che non va le amministrazioni hanno tutte le possibilità di attivarsi c'è una legge ben precisa che permette a comuni, province, regioni di intervenire concretamente non c'è bisogno della magistratura e delle forze dell'ordine per obbligare degli amministratori che dovrebbero fare il loro mestiere a fare quello che devono fare quindi purtroppo è un guaio ma è un guaio anche per un'altra ragione perché vicino all'autostrada poi c'è anche bussi un po' più verso Pescara ed è terribile un'altra discarica è ancora e vicino a questa autostrada si vuole fare una grande opera si vuole bucare la montagna con riserve d'acqua in pericolo per un investimento di 5 miliardi mentre abbiamo ancora delle discariche pericolosissime che possono danneggiare la salute dei cittadini è veramente incredibile noi non sappiamo più che cosa dobbiamo dire solo una sollevazione morale civile della popolazione può obbligare le istituzioni e tutti quelli che devono lavorare a fare il loro mestiere dopo l'evento della nascita in condizioni di emergenza avvenuta ieri presso l'ospedale di Atri la Asle di Taramo ha attivato una verifica immediata dei fatti dalla quale emergono già alcuni risultati l'ostetrica ha ritenuto che la signora fosse in travaglio di parto e che fosse necessario trasportarla al pronto soccorso più vicino e quindi presso l'ospedale di Atri in questi casi invece è assolutamente indispensabile attivare le procedure di emergenza del servizio del 118 che nell'occasione afferma la Asle di Teramo avrebbe trasportato in sicurezza la paziente presso il presidio ospedaliero più vicino dotato di punto nascita il parto prosegue l'azienda sanitaria è comunque avvenuto all'ospedale Atri assistito da un'equip medica completa giunta sul posto in emergenza la madre e la bimba in buone condizioni di salute sono state successivamente trasportate all'ospedale di Teramo questo evento conclude la Asle di Teramo sarà certa occasione per l'azienda di affinare l'organizzazione e se del caso apportare i necessari correttivi cambiamo pagina torniamo a occuparci della vicenda del mare inquinato a Pescara su questo caso è intervenuta l'associazione pescarese mi piace attaccando l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Alessandrini Fiorelli mare inquinato a Pescara ci saranno dei divieti all'inizio della stagione lo ha detto il vice sindaco del vecchio situazione difficile complicata non è una novità la vostra associazione cosa propone e cosa dice il merito ma la novità in realtà c'è che la situazione è drammatica ormai già da febbraio e si prospetta una stagione del balneare davvero difficile non soltanto per i balneatori ma per tutta l'economia cittadina Pescara mi piace per prima ha denunciato l'inquinamento quest'estate che era stato sottaciuto artatamente dal sindaco e dal vice sindaco del vecchio ma non l'abbiamo fatto per sollevare un problema quanto per trovare delle soluzioni che evidentemente non sono state né trovate né cercate oggi il sindaco denuncia il fatto con braccia concerte sembra che non ci sia una soluzione invece di attivarsi in tutti i modi per cercare quelle risorse che pur ci sono da dirottare immediatamente sul disinquinamento del fiume stanno partecipando a sfilate contro l'inquinamento ecco protestano contro se stessi questa è la dimostrazione dell'incapacità totale di questa giunta divieti che potrebbero davvero mettere in ginocchio il turismo non solo della città di Pescara bisogna fare qualcosa e probabilmente non è neanche un problema di colore politico a questo punto data la gravità dei fatti ma è proprio questo il problema che non si sta facendo nulla che i divieti non si possono nascondere per risollevare il turismo bisogna evitare risolvere i problemi alla base di divieti per cui oggi già siamo in ritardo bisogna muoversi immediatamente tutti noi opposizione come maggioranza vogliamo un mare pulito prima di tutto per noi stessi e poi per il turismo quindi credo che le soluzioni vadano cercate e trovate ma se non ci si attiva credo che è difficile che arrivano da sole allora credo che sia fondamentale che il sindaco si metta all'opera per cercare soluzioni cosa che non sta facendo come tutta la giunta stanno guardando da spettatori una situazione in cui bisogna essere attori ma attori decisi e capaci Colline Terramane annuncia il cambio della propria sede Lascia Mosciano che ha ospitato la sua azione nei locali della facoltà di bioscienza e tecnologie agroalimentari dell'Università di Terramo e inaugura la nuova a Montepagano un progetto che punta a rilanciare il turismo nell'antico borgo di Roseto vediamo un borgo antico che spicca dalla collina 6 chilometri dal centro di Roseto un orizzonte azzurro che disegna il mare dal bel vedere e la tradizione dell'enogastronomia abruzzese Montepagano si prepara a tornare al suo splendore storico mettendo tra i punti cardine del suo progetto turismo storicità bellezza paesaggistica e poi la qualità della sua terra foriera del divino nettare degli dei Colline Terramane sceglie Montepagano come nuova sede e da qui parte il nuovo ambizioso obiettivo diventare meta di turismo abbiamo accolto la proposta da parte dell'amministrazione del comune di Roseto di spostarci qui a Montepagano e questo è stato un po' il culmine di un il coronamento di un percorso iniziato già diversi anni fa già nel 2012 in cui il consorzio ha cominciato a creare una sinergia con il comune di Roseto in particolare con Montepagano un consorzio di produttori di vino non può che avere la vocazione della celebrazione del territorio questa sinergia con Montepagano vorremmo che fosse percepita come simbolo di una di una dell'intento di legarsi anche ulteriormente al territorio con orgoglio e soddisfazione sono propri i rappresentanti del territorio di Roseto a ricordare pubblicamente oggi quando si nomina a Montepagano il pensiero corre subito ad una persona Gianluca Ginobble vincitore dello scorso festival di Sanremo che come un ambasciatore nel mondo ha portato la sua terra in giro per i palchi internazionali a lui va il ringraziamento degli amministratori pubblici e da qui si riparte per riportare la sua città all'originario splendore alla presentazione del progetto non c'era il giovane talento impegnato nel tour mondiale ma suo padre Ercole che ha commentato così l'amore di suo figlio per la città Gianluca sta veramente portando grande notorietà a Montepagano che è il suo paese dove noi viviamo e chiaramente anche Roseto certamente può fare da traino questa sua visibilità questa grande pubblicità può essere un volano sicuramente importante per far conoscere ancora di più e far sviluppare creare ancora più turismo e più interesse intorno a questa zona che devo dire però è veramente bella Regione Abruzzo Cram Camera di Commercio di Pescara e Centroestero delle Camere di Commercio hanno sottoscritto un protocollo di intesa mirato a favorire la promozione dei prodotti abruzzesi nel mondo L'assessore regionale all'emigrazione Donato Di Matteo e il presidente della Camera di Commercio di Pescara Daniele Becci hanno firmato un protocollo d'intesa tra il Cram il Consiglio regionale degli Abruzzesi nel mondo la Camera di Commercio di Pescara e il Centroestero delle Camere di Commercio al fine di favorire e accompagnare l'internazionalizzazione delle imprese abruzzesi con uno sguardo particolare rivolto sia ai paesi in cui tradizionalmente è fiorente l'export come Stati Uniti Canada e Brasile ma anche ai mercati emergenti in particolare Iran e Algeria Alcram capofila del partenariato spetterà promuovere e dettare le linee guida funzionali a stilare il programma di attività per il biennio 2016-2018 supportato dalla Camera di Commercio e dal Centroestero che si occuperanno sulla base dello stesso programma di individuare i mercati in cui affiancare alle iniziative anche specifiche missioni commerciali a cui prenderanno parte gli operatori abruzzesi insieme alla Camera di Commercio o alle Camere di Commercio d'Abruzzo con la disponibilità del Centroestero e della Camera di Commercio di Pescara riusciamo a mettere in piedi un programma che coinvolga le nostre associazioni all'estero siamo presenti in 46 stati in maniera organizzata più una serie di presenze anche in altri stati nel mondo questo grande patrimonio di risorse umane che è l'Abruzzo distribuito nel mondo si può trasformare una grande opportunità di crescita e di sviluppo del nostro territorio costruendo dei momenti per commercializzare i nostri prodotti per far sì che le nostre imprese possano avere dei contatti diretti valorizzare il nostro territorio la vendita del turismo la vendita delle nostre belle bellezze che abbiamo tutto questo rappresenta un momento di grande opportunità che va coltivato prima riunione della macroarea adriatica della Lilt a Pescara con Abruzzo Marche, Emilia Romagna e Molise uniti con l'obiettivo di mettere in campo progetti comuni per la prevenzione dai tumori questa è un'iniziativa molto molto importante e qui a Pescara oggi si riuniscono appunto i presidenti delle Lilt di queste regioni limitrofe Marche Abruzzo Molise e in più c'è il coordinatore della macroarea il professor Rivelli di Bologna dovremo mettere a punto la strategia per l'anno in corso e essere praticamente insieme a portare avanti questi discorsi in modo tale da migliorare la potenzialità delle nostre Lilt La prevenzione resta sempre l'obiettivo primario della vostra associazione come anche delle altre prevenire e poi curare Prevenire è meglio che curare sicuramente esistono tre tipi di prevenzione la prevenzione primaria cioè occuparsi delle malattie prima ancora che esse insorgano e questa è un'azione che la Lilt di Pescara svolge in maniera intensiva sono otto anni che la Lilt di Pescara va a scuola nelle scuole medie e superiori e poi c'è la prevenzione secondaria quando praticamente il tumore è ancora molto piccolo quindi curabile e guaribile e questa è una prevenzione che noi facciamo per esempio con il nastro rossa per la prevenzione senologica con la prevenzione dei melanomi sempre in associazione e in collaborazione con l'AS di Pescara poi c'è la prevenzione terziaria rivolta a chi si è già ammalato e ha bisogno di sostegni e supporti e anche in questo campo la Lilt col progetto Vado manda i suoi volontari a domicilio per allieviare le sofferenze delle persone che sono ammalate e prevenire ulteriori danni nel giorno di carnevale è stata tanta l'affluenza la seconda sfilata dei carri allegorici del carnevale d'Abruzzo di Francavilla al mare domenica prossima si replica per l'ultima sfilata maschere coriandoli allegria musica e quel pizzico di riverenza che non guasta sono gli ingredienti della 61esima edizione del carnevale d'Abruzzo di Francavilla al mare che in un caldo pomeriggio di febbraio ha consumato la seconda sfilata delle tre previste per l'edizione 2016 sfilata dedicata al carnevale della musica approfittando della temperatura mite del martedì grasso e nonostante il giorno lavorativo sono state davvero tante le famiglie che hanno deciso di passare un pomeriggio diverso in compagnia dei sei carri allegorici realizzati dai maestri della cartapesta di Francavilla e delle oltre 300 maschere coordinate dal direttore artistico Tony Miccoli per le coreografie di Paola Francioni Americodi e Francesco danze e canti hanno accompagnato l'incedere dei carri lungo Viale Nettuno cartapesta sagomata sui bozzetti vincitori del concorso indetto lo scorso anno e replicato anche in questa edizione come sempre a capo della sfilata il re della città durante i festeggiamenti Patanello la maschera tradizionale di Francavilla nonostante si sia già entrati nel periodo di quaresima il carnevale d'Abruzzo replica domenica prossima alle ore 15 per l'ultima sfilata che cade proprio nel giorno di San Valentino dedicato agli innamorati solo allora la maschera di Patanello potrà tornare in soffitta dando così l'appuntamento al carnevale 2017 prima serata ieri per il festival della canzone italiana a Sanremo in gara anche un'abruzzese si tratta di Riccardo Ruio batterista dei Dear Jack la band che ha lanciato un appello diretto agli studenti del Mantone votateci a rischio la loro permanenza la classifica generale infatti li vede tra gli artisti a rischio eliminazione Dear Jack sul palco dell'Ariston ieri sera prima serata della Kermesse Canora e via la corsa per i voti nella formazione come è noto un componente pescarese Riccardo Ruio batterista la band è divenuta nota partecipando nel 2013 alla tredicesima edizione del Talent Amici di Maria De Filippi dove ha vinto il premio della critica giornalistica partecipa per il secondo anno di fila a Sanremo quest'anno la band è in gara con il brano Mezzo Respiro dopo la prima serata a rischio eliminazione sono infatti finiti in fondo alla classifica insieme a Noemi Irene Fornaciari e Blu Vertigo e nel corso dell'esibizione hanno chiesto sostegno ai fan tirando in ballo anche l'istituto Mantone di Pescara dove lo stesso Ruio si è diplomato anni fa e oggi invece ospita suo fratello Lorenzo a loro tempo concesso fino a venerdì per risalire la classifica e a loro va tutto il sostegno dell'Abruzzo che proprio un anno fa stava per celebrare la vittoria con il giovanissimo Gianluca Ginomble vincitore con il trio Il Volo Dare un senso ai ricordi per un passo in avanti perché odiarci non serve più Ed ora apriamo la pagina sportiva e lo facciamo con il Pescara che continua a lavorare in vista dell'anticipo di venerdì venerdì alle 20.30 all'Adriatico Cornacchia contro il Vicenza dell'ex tecnico Pasquale Marino sarà un Pescara comunque in emergenza perché mancheranno tre squalificati sicuramente ovvero Caprari Verre e Mandragora sicuramente out anche gli infortunati Crescenzi Campagnaro e Coda probabile recupero per Mazzotta nel pomeriggio il Vicenza si è trasferito in Abruzzo il Vicenza è partito con un giorno d'anticipo per preparare al meglio una gara molto delicata soprattutto dopo la sconfitta casalinga inopinata contro la Virtus Lanciano abbiamo ascoltato nel pomeriggio il difensore Michele Fornasier che sarà certamente titolare anche per via dell'emergenza difensiva tornerà a fare coppia centrale con Dario Zuparic ascoltiamo dunque Fornasier anche sui problemi della difesa che ci sono quando manca Campagnaro Michele Fornasier come si suol dire la domanda è d'obbligo questa difesa senza Campagnaro è una difesa più vulnerabile dà fastidio sentire sempre la solita domanda beh è sempre la solita domanda un po' sì però di sicuro l'esperienza il carisma che c'ha un giocatore come Campagnaro ci aiuta tanto Campagnaro con Fornasier e con Zuparic riesce a far giocare bene la difesa quando non c'è l'argentino c'è qualche problema perché? no più che problema per me anche l'ultima partita è stata una partita che abbiamo in cui abbiamo giocato bene però ovviamente ogni partita è penalizzata da episodi a favore e contro e a volte ci sono andati bene e questo giro non ci è andata male siamo tornati un po' a qualche mese fa emergenza in difesa non ci sarà Campagnaro non ci sarà neanche l'ultimo arrivato coda siete un po' contati lì dietro sì ma si sa che gli infortuni ci sono però noi come ho detto prima diamo sempre il massimo per fare il meglio una partita particolare ci sarà verrà rinnovato il gemellaggio con i tifosi però all'andata a proposito di Beffe quella del rigore subito al 95esimo grida ancora vendetta sì anche lì è stata una partita a sé però ormai è una partita dimenticata passata noi guardiamo questa che sta per venire venerdì e pensiamo questa noi andiamo tutte le partite andiamo a giocarcela per vincere poi il risultato è quello che è però noi ci mettiamo sempre il massimo impegno e la mentalità giusta per cercare di portare a casa il risultato dobbiamo pensare a fare punti e a vincere le partite poi il resto verrà da sé guarderemo la classifica a fine campionato per quanto riguarda la Virtus Lanciano lavoro odierno al quale non hanno preso parte per motivi per un riposo precauzionale di Matteo che comunque sarà squalificato per la gara di sabato contro il Modena e Zé Eduardo continua il lavoro di riatletizzazione per Salviato mentre in serata torneranno i giocatori impegnati con le rispettive nazionali ovvero il portiere Cragno ai centrocampisti di Francesco e Vitale domani la seduta di allenamento si svolgerà al mattino sul campo di San Buceto per quanto riguarda la Lega Pro invece parliamo del Teramo perché è appena uscito il dispositivo relativo al giudizio di rinvio presso la Corte federale d'appello e come possiamo vedere la vicenda evidentemente è interminabile la decisione è riservata il comunicato uscito poco fa sul sito della Federcalcio potete leggere giudizio di rinvio a seguito della decisione del collegio di garanzia del CONI in ordine alla determinazione delle sanzioni inflitta la società Teramo Calcio e Savona e in basso appunto la decisione riservata quindi bisognerà attendere altri giorni prima che la Corte federale d'appello possa esprimersi e chissà se sarà una decisione finalmente definitiva circa un eventuale sconto di penalizzazione oggi il dibattimento si è aperto intorno alle ore 14 all'interno degli uffici di via Campagna la Teramo Calcio era rappresentata degli avvocati Chiacchio e Cerulli Irelli il dibattimento si è protratto fino intorno alle ore 17 la procura federale ha chiesto il mantenimento delle sanzioni cioè i 6 punti di penalizzazione e i 30 mila euro di ammenda per la società Teramo Calcio chiaramente gli avvocati hanno puntato hanno chiesto un azzeramento sia dell'ammenda sia della penalizzazione e come abbiamo letto la decisione è riservata quindi nei prossimi giorni la Corte federale si esprimerà su questo caso e sull'eventuale sconto della penalizzazione restiamo in tema perché ieri sera ha rotto il silenzio circa nove mesi di silenzio l'ex DS del Teramo Marcello Di Giuseppe che è tornato a parlare della vicenda estiva dell'inchiesta e ha chiesto anche scusa per il fatto che il Teramo non ha potuto disputare un campionato che sul campo aveva meritato cioè la Serie B ed è tornato a ribadire non c'è stata alcuna combina tutto questo è accaduto nel corso della trasmissione pro Teramo condotta da Jacopo Forcella ascoltiamo un estratto cosa che mi preme maggiormente ma questo anche da tempo al di là di tutto quello che poi si dirà nel corso della trasmissione io ci tengo a chiedere scusa perché comunque penso che degli errori da parte mia comunque ci sono stati e le responsabilità me le sono prese ma chiaramente non è nemmeno quello il problema io penso di dovere delle scuse a tutti gli sportivi in genere ai tifosi della Mani in particolare assolutamente perché comunque so quanto questa vicenda abbia fatto soffrire una città intera e forse non solo una città a cui io comunque non posso che rimanere legato per tanti ovvi motivi e poi le scuse per ultime ma forse per prime io li voglio fare perché la cosa che mi è rimasta molto impressa soprattutto nell'ultimo periodo di Teramo è stata la grande la grande vicinanza dei ragazzi dei più giovani dei bambini le scuse sono spontanee sono al di là di quello che poi diremo perché poi di punti non chiari ce ne sono tantissimi però io ci tenevo a dire questo perché è chiaro che io sono stato comunque una parte importante di quella vicenda qui parliamo di tanto è nato tutto da una tentata con Bin da una sentenza che poi è stata sotto gli occhi di tutti e tutti un pochino l'abbiamo l'abbiamo letta ed è una sentenza che a me ancora adesso purtroppo e devo dire purtroppo lascia sconcertato perché alla fine di tutta la giostra si parla di una partita consumata perché quella per la giustizia sportiva è stata una partita consumata l'unico problema però è un problema che è chiaro che a livello di giustizia sportiva può contare o non contare ma la verità è che dei 22 giocatori che stavano in mezzo al campo nessuno è stato chiamato in causa e questo a me continua è una cosa che dovrebbe far pensare tanto una semplice risposta sì e no c'è stata la Combine no e ora parliamo dell'Aquila che invece sta preparando il match di sabato contro la SPAL a proposito chiudiamo anche la parentesi Teramo perché domani la squadra sarà in campo per la Coppa Italia a Siena 19 convocati dal tecnico Vivarini diversi giocatori prelevati anche dalla Berretti 8 su 19 Teramo che poi giocherà in campionato alle 17.30 di domenica contro il Tutto Cuoio al Bonolis e appunto l'Aquila giocherà sabato alle ore 14 contro la capolista SPAL inutile dire che è un impegno assolutamente probante però servono i punti perché la classifica anche dopo la penalizzazione al momento vede nelle parti basse la squadra di Carlo Perrone vediamo come sta preparando questo appuntamento Amichevole in famiglia oggi per l'Aquila Calcio che sabato al Fattori incontra la capolista SPAL torna a disposizione il difensore Emanuele Pesoli fermato nei giorni scorsi dall'influenza e anche Giordano Maccarrone prosegue il suo programma di recupero dopo l'infortunio tra una ventina di giorni il difensore siciliano dovrebbe tornare a disposizione di mister Carlo Perrone intanto la Lega ha ufficializzato che la settima giornata di ritorno l'Aquila tutto cuoio si giocherà sabato 27 febbraio al Fattori mentre il derby a Teramo andrà in scena il 24 marzo Quella che si è appena conclusa è stata una settimana complicata per l'Aquila Calcio la penalizzazione il ricorso che è stato presentato dagli avvocati Celani e Tortorella e le notizie sulla trattativa societaria Domenica al Fattori c'erano anche gli ex dirigenti del Martina Franca De Simone e Folgori che si sono presentati all'Aquila per entrare in società facendo riferimento a Graziella Group A questo punto però la trattativa sembra erse si raffreddata dopo che il lavoro giornalistico del collega Stefano Dascol del Messaggero ha fatto emergere tutte le lacune di quel progetto Gianni Gori infatti patrona del Graziella Group ha categoricamente smentito l'interesse ad entrare in società all'Aquila più di un dubbio quindi sulla bontà dell'operazione anche per i tifosi rosso-blu che pur avendo con l'attuale proprietà un rapporto di alti e bassi sembrano spingere oggi chiodi e mancini a proseguire in questa avventura certo è che in questo momento la squadra ha solo bisogno di serenità per raggiungere la salvezza era questo l'ultimo servizio del TG6 vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Virtus Style il nostro settimanale dedicato alle vicende della Virtus Lanciano tra campo ma anche trattative societarie un momento particolarmente intenso invece tra pochissimo spazio al TG6 l'Aquila grazie per l'attenzione buona serata l'Aquila 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 l'Aquila